La campagna resta in contatto con il tuo medico ha una importanza vitale per i pazienti perché si tratta con l'aiuto del medico di rispettare quella che è l'aderenza con il farmaco che ti viene dato. Diciamo che c'è stato un momento nel quale non si sapeva, il paziente non era in grado di sapere se continuare oppure no la propria cura, è stato investito da dubbi, si è sentito abbandonato ed isolato ma soprattutto nella seconda fase del covid già medici si sono messi a disposizione molto di più che non nella prima fase e la raccomandazione è quella di continua la tua cura, non abbandonarla per nessun motivo perché altrimenti pena recidive e la psoriasi ha questo grosso problema si tratta di ritornare da capo e quindi perdere molto tempo. Questa campagna è anche molto importante perché è soprattutto rivolta a dei pazienti cronici per i quali è veramente molto dannoso sospendere le cure. I pazienti cronici e psoriasici sono anche dei malati complessi a 360 gradi con più di una patologia e quindi il rispettare l'aderenza è veramente fondamentale.